Musica Subito tutti liberi, liberi, subito tutti liberi Questo saluto che vogliamo portare prima di tutto a Daniele, un nostro compagno arrestato sabato alla manifestazione contro la Lega Nord qua a Torino E poi un saluto caloroso a tutti i detenuti del carcere delle Vallette Questo è un presidio di solidarietà con cui vogliamo dare tutto il nostro calore e abbracciare Daniele perché oggi è anche il suo compleanno E quindi gli facciamo tanti auguri e un augurio di riuscire a resistere, a sorridere anche dentro quella cella A dirgli che non è solo, a dirgli che non è solo come non era solo in piazza perché ce l'avamo tutti A difendere il corteo dagli attacchi della polizia, a dire che Torino è antirazzista, a dire che Torino odia la Lega E che non si può piegare davanti a chi sfrutta i problemi delle persone per creare razzismo, per creare guerra tra poveri Siamo qua per ricordarlo, stasera siamo qua per dire che non ci ferma niente, non ci ferma nessuno, non ci ferma la polizia E siamo sicuri che Daniele dentro quella cella, dentro questo carcere saprà sorridere di questa situazione e non avere paura Un saluto a pugno chiuso, un saluto e un abbraccio da tutti i compagni e le compagne Ciao Dan, sono io, mamma, auguri Dan, hai degli amici meravigliosi, grazie a tutti, ti aspetto a casa Grazie Daniele libero, libero, subito Daniele libero, libero, subito